La situazione è sotto controllo, diciamo, perché da domenica appena nascossa abbiamo, dopo la riunione fatta con il sindaco, l'ufficio tecnico, protezione civile, Croce Rossa e Soccorso Alpino, abbiamo deciso di dare priorità più che altro alle zone più a rischio. Quindi abbiamo cominciato con le chiese che sono state, tramite l'ordinanza del Vescovo, chiuse, l'unica chiesa disponibile è San Massimiliano Colbe, poi abbiamo fatto il giro per quanto riguarda, diciamo, anche alcune scuole, poi l'ospedale, poi case di riposo e anche lo stadio. Questo ci ha più che altro invitato ad aprire questo, diciamo, palatenda che dà la possibilità, sia domenica che ieri, che anche questa sera, di permettere a tutte quelle persone che non hanno, o hanno preferito, non rientrare nelle proprie abitazioni, che abitava al terzo piano e chi aveva delle case isolate, quindi venire e quindi passare la notte qui. Allora, da prima c'è stato segnalato che il ponte per lesioni veniva chiuso, in effetti noi tramite tecnici comunali è stato chiuso al traffico e c'era un, diciamo, un tratto alternativo per arrivare a Roccafina Damo. E adesso, ieri sera, mi hanno comunicato prima i tecnici comunali che invece, dopo un'altra ispezione fatta in maniera più minuziosa, non ci sono grossi problemi e quindi il ponte, diciamo, è stato riaperto. Sì, come dicevo prima, abbiamo attivato questo centro operativo comunale con il numero 348 397 39 86, che è il numero che noi abbiamo a disposizione per permettere a chi è in difficoltà, e quindi in questo caso a tutti i cittadini che ne avessero bisogno, di segnalare delle lesioni che si sono verificate. Ma siamo in atto già da due giorni e ci muoviamo in tutte le ore della giornata e anche la notte per vedere qual è lo stato di degrado e di pericolo che sia gli abitati civili che le scuole e, diciamo, anche le chiese e soprattutto i luoghi pubblici possono, devono essere evacuati proprio in funzione del fatto del pericolo di questi giorni. Domani comunque le scuole della provincia sono entrambe chiuse.